Le vostre madri, le vostre sorelle, le state riducendo ad oggetti. Devi protestare contro ciò. Ho incontrato centinaia di loro. Come sono diventati distorti? Questa non è una questione morale, è una questione di salute mentale. E adesso iniziano a dire che è di moda anche per le donne guardarlo. Stai facendo la cosa più stupida che puoi fare. Metti il viso di tua madre sulla signora che sta lì. Penso che capirai il punto. Namaskaram Sadhguru. Sembra che come smettere di guardare il porno sia una delle ricerche più frequenti su internet. Ho alcuni ex compagni di classe che ne sono diventati dipendenti e la loro vita è andata sottosopra. Perché le persone ne diventano dipendenti e come possono uscirne facilmente? Vedi, devi capire, pornografia non significa sessualità. È una specie di malattia che stai sviluppando. Quando dico malattia, la sessualità non è una malattia. È parte della nostra creazione. Siamo qui a causa di questo. Non siamo qui per questo. Siamo qui a causa di questo. Siamo nati da questo. Quindi non è una questione di giusto o sbagliato. È semplicemente che per ogni altra creatura la natura ha controllato la loro sessualità. Perché la loro sessualità è stagionale. Il resto del tempo non sanno nemmeno chi sia maschio e chi sia femmina. Ci siete? Quindi la natura li ha controllati. Perché pensi che la natura ti abbia tolto quel controllo? Perché ha creduto che tu avessi un po' più di cervello. Ma stai cercando di dimostrare che non ce l'hai. Sì. Perché a una giovane età, se guardi quelle cose, nient'altro accadrà nella tua testa. Quindi in questo processo direi che le donne hanno una più grande responsabilità e la necessità di porre fine a queste cose. Perché nessuno sta dicendo niente in proposito. E adesso iniziano a dire che è di moda anche per le donne guardarlo. Qualcuno dice che questa è educazione sessuale. No, no. Non è nessuna di queste cose. Grazie a tutte le piccole battaglie che sono successe o alle lotte che le donne hanno traversato, una certa quantità di libertà fisica è giunta a te. La stai buttando via con la pornografia. Significa che sei comunque un oggetto. Va bene? Se vuoi diventare un essere umano, devi protestare contro ciò. Non per strada. Ovunque lo vedi, devi porvi fine immediatamente. Devi capire. Questo non riguarda la gioia di qualcuno, il divertimento di qualcuno, il piacere di qualcuno. Riguarda il rendere una donna un oggetto. Fare di te una cosa. Se le donne non lo accettano, quel tanto non è ancora presente nella testa dell'uomo. A meno che non si evolvano. A meno che non si evolvano, sì. E soprattutto ho incontrato centinaia di loro. in giovane età sono entrati in queste cose e come sono diventati distorti e quanto soffrono dentro di sé. Domani, per avere delle relazioni significative con le persone intorno a sé, diventano così malati. Non voglio nemmeno dire queste cose davanti a voi. Il tipo di cose che mi hanno detto, ciò che attraversano, perché sono diventati dipendenti da questa cosa quando erano molto giovani. Quindi, come me ne libero? Devi capire questo. Come ti ho detto, la natura ti ha liberato da un certo vincolo, pensando che tu fossi una vita consapevole, che avresti fatto ogni cosa consapevolmente. Non voleva dire che devi fare solo quello tutto il tempo, l'attività riproduttiva. Quindi, non riguarda il piacere, non riguarda la gioia, non riguarda l'amore. È solo una compulsione. Se non capisci che la compulsione è schiavitù, allora, a che fare con te? Ci siete? Non capisci che la compulsione è schiavitù? La consapevolezza è l'unica liberazione che abbiamo. Quindi, non c'è nessun bisogno di rinunciarvi. Semplicemente non c'è bisogno di andare lì. Tutto qui. A cosa c'è da rinunciare? Sta accadendo qui. No, sta accadendo nella mia mente. Vedi, la tua mente è così. Qualsiasi cosa ci imprimi sopra, è quello che accadrà. Questa è la natura della tua mente. devi capire. Ogni tecnologia, ogni comodità che giunge a te la vuoi usare per la tua propria distruzione. Oh, dov'è il danno? Oh, dov'è il danno, Saguru? Questo è il danno. Le vostre madri, le vostre sorelle e ogni altra donna che vi sta intorno le state riducendo ad oggetti. Non dico che tutti voi diventiate baramachari se andiate da qualche parte. No, questo è solo per certe persone che hanno la capacità di farlo. Ma devi condurre la tua vita in modo dignitoso. Dov'è la dignità in questo? Dov'è la dignità per la donna nella pornografia? Ci siete? Dov'è la dignità? Quindi pensi che negando la dignità a metà della popolazione sul pianeta, della popolazione umana sul pianeta, pensi che troverai del piacere? Disgustoso. Quindi questa non è una questione morale, è una questione di malattia psicologica, capisci? È una questione di salute mentale. Quindi non è moralità, stai diventando mentalmente malato. Solo perché vedi qualcosa di brutto e dici hi 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 tra amici, non pensare che stai facendo qualcosa di fantastico. Stai facendo la cosa più stupida che puoi fare. Se non capisci ciò che voglio dire, qualunque sia la pornografia, metti il viso di tua madre sulla signora che sta lì. Penso che capirai il punto.